che hai come esempio nel passato e nel presentato? No, ma guardo sempre i buoni giocatori che rinforzano, che fanno i buoni giocatori, che giocano, che giocano. Guardo molto Milito e Zaghi quando giocano, sono grandi giocatori. Naturalmente è molto affascinato dagli attaccanti che segnano tanto. Essendo un attaccante avrete capito che gli piace molto, segue molto Milito e seguiva in Zaghi. Ciao, sono Andrea Barbarossa, nobara.com, forse a semplice. Voglio chiederti a chi dedica il tuo attriggio a Zaghi? Cosa dice? A chi dedica il tuo attriggio a Zaghi? Se hai un attriggio a Zaghi? No, ho fatto per me e per il team. Cioè, è importante per il team per vincere il gioco. E poi ho fatto tre golvi, è fantastico, ma più importante è che vincere il gioco. Il tuo attriggio a Zlatan di Zaghi? Zlatan è un grande gioco, è un grande gioco, quindi non lo so, ma per il momento ho piaciuto il tempo qui. Sì, Agon, Andrea, aveva chiesto se c'era una dedica particolare per la tripletto, aveva segnato per me stesso e per la squadra. Poi la seconda domanda sull'aspettativa, insomma l'obiettivo di giocare con Zlatan Ibrahimovic nella nazionale svedese. Naturalmente Zlatan è un grande giocatore, sono concentrato a dare il massimo, poi vedremo. Ciao, Agon, una domanda?